Nell'ultima puntata prima del Natale, un dolce augurio ci proviene da sal de riso. Prepariamo l'antenata della più celebre cassata, la cui immagine è stata mutuata dagli affreschi di Pompei. Ecco Oplontis.Ingredienti pan di spagna 110 g uova intere 2, 70 g zucchero, 20 g miele, 20 g tuorlo, 50 g farina 00, 25 g fecola di patate, mezza bacca di vaniglia, 10 g buccia di limone grattugiata in zuppitura 300 g acqua, 150 g zucchero, 1 foglia di alloro, 1 g finocchietto selvatico, 10 g camomilla, 1 bustina zafferano crema di ricotta 400 g ricotta di bufala, 160 g zucchero, mezza bacca di vaniglia glassa e lamponi 170 g succo di lamponi, 180 g acqua, 285 g zucchero, 150 g glucosio, 120 g latte condensato, 14 g gelatina, 73 g burro di cacao, 60 g cioccolato bianco, 30 g gelatina neutra, 1 g colore idrorosso in polvere procedimento pan di spagna montiamo con le fruste elettriche le uova intere con lo zucchero, il miele, il tuorlo, la vaniglia la buccia grattugiata del limone per circa 12-14 minuti. Nel frattempo, setacciamo la farina insieme alla fecola. Quando le uova scrivono, spegniamo le fruste ed aggiungiamo le polveri setacciate, mescolando delicatamente con una spatola. Trasferiamo in una tortiera imburrata di 26 cm ed infarinata ed inforniamo a 180 grado per 18-20 minuti. Inzuppitura facciamo bollire per 1 minuto tutti gli ingredienti insieme, quindi facciamo raffreddare. Crema di ricotta in una ciotola o in planetaria con la frusta. Lavoriamo la ricotta con lo zucchero e la vaniglia. O l'apostrofo interno di una tortiera. Mettiamo un disco di pan di spagna. Lo inzuppiamo con la bagna. Formiamo sopra uno strato generoso di crema di ricotta. Disponiamo sopra dei canditi d'arancia, dell'albicocca candita e delle scaglie di cioccolato fondente. Copriamo con l'altra metà del pan di spagna, lo inzuppiamo e congelliamo. Prepariamo la glassa. In un tegame, mettiamo l'acqua con lo zucchero, il succo di lampone, il glucosio ed il colorante e portiamo a bollore mescolando a 106 grado. Quindi aggiungiamo il latte condensato, la gelatina neutra e la gelatina ammollata. Portiamo a 38 grado ed uniamo il cioccolato bianco già fuso a 35 grado insieme al burro di cacao. Mescoliamo, filtriamo e lasciamo raffreddare. Usiamo a circa 24 grado. Sformiamo la torta congelata. La spalmiamo con uno strato sottile di confettura di albicocche. Copriamo con una sfoglia di pasta di mandorle e la facciamo aderire per bene. Colliamo sopra la glassa rossa e facciamo colare via la glassa in eccesso. Completiamo con dello zucchero dorato polvere d'oro alimentare.